ciao a tutti amici del canale eccoci qui per il video decorazione agenda della settimana come al solito andrò a crearmi la decorazione di questa settimana partendo proprio da zero dai fogli bianchi anzi fogli puntinati perché quest'anno ho deciso di utilizzare fogli puntinati e niente bando alle ciance non mi sto più a dilungare più di tanto perché comunque il video già sarà un pochino lungo e andiamo sulla scrivania e iniziamo a lavorare allora eccoci qua iniziamo come al solito ho preso il mio stamping tool ho già preparato il foglio e ora vado ad attaccare i clear stamp allora questa settimana utilizzo quelli del calendario quindi vado con le scritte dei giorni i numerini li metterò all'interno usiamo le bandierine e sono un po' grandine però non fa niente usiamo queste così il colore che userò questa settimana è questo viola poi la decorazione questa settimana la farò con questi clear stamp che mi sono arrivati da Aliexpress agli ultimi acquisti vi lascio poi il link al video e utilizzerò appunto questi qua con i micetti allora sulla seconda pagina prima di andare avanti con i clear stamp volevo utilizzare questo stencil che mi è arrivato da Aliexpress che vi ho mostrato appunto nell'ultimo video acquisti perché una ragazza adesso non ricordo chi mi aveva chiesto di fargli vedere come si utilizzano allora io ho pensato di utilizzare questo qua con tutti i pallini per fare un po' di qualche sfumatura allora vorrei fare un qualcosa del genere allora vado a fermare lo stencil sul foglio leggermente e uso un nastro carta ok proprio così poco poco e vado ad utilizzare il distress oxide wilded violet appunto per rimanere nei colori e semplicemente li ottengo fermo per non sporcare si fa così si tamponano ok vedete una cosa del genere e magari faccio così proprio una cosa così leggera per dare proprio una trama niente di che ok ok così avete visto anche come funziona lo stencil ecco poi lo stencil si pulisce benissimo con acqua vedete viene proprio via bene l'inchiostro ecco io qua ho fatto danno quindi è tornato pulito e si può poi riutilizzare ok quindi ora vado ad applicare gli altri giorni per il weekend stavolta utilizzo una cosa un po' più piccolina e vado ancora con i colori del viola allora anche qui vado con qualche gattino allora andiamo con i numeri quindi dal 22 al 28 la scritta weekend però la faccio sempre con il brush pen ora vado con gli washi prima però di mettere gli washi volevo attaccare questo centrino di qua ho fatto le macchioline di qua invece avevo intenzione appunto di mettere il centrino lilla e poi comunque ci passo sopra con gli washi quindi vado con la colla ok e ora vado con il wash allora per salvabucchi utilizzo questo qui con i gatti che appunto avevo preso su aliexpress no si è rotto un bello e per la divisoria dei giorni utilizzo questo slim glitter quindi questo sempre preso su aliexpress allora ho fatto anche i buchi è tutto a posto voglio aggiungere altre due decorazioni che avevo preparato da mettere qui e magari l'altra la metto qua infine voglio utilizzare anche queste colle glitter per dare un tocco in più e ora vado a scrivere le cose allora non scrivo che video farò perché ovviamente vi voglio lasciare la sorpresa venerdì sorpresina questo ormai vabbè è questo qui che sto facendo ora per cui questi erano degli evidenziatori pastello che avevo preso da Lidl e ho deciso che vado a evidenziare le cose che ho scritto vado a inserire in agenda allora e questa è la mia decorazione bella molto carina mi piace un po' gattosa carina carina sono contenta di come uscita inseriamo il solito segna pagina e niente anche per oggi è tutto spero tanto che la mia decorazione vi sia piaciuta mi raccomando pollice in su lasciatemi un commento e ovviamente iscrivetevi al canale attivate la campanella e continuate a seguirmi al prossimo video ciao